Siamo ormai alla fine di questa maratona elettorale che abbiamo trascorso con voi questo pomeriggio dalle 14 in avanti. Ormai mancano poche decine di sezioni alla chiusura dello scrutinio, anche se poi resta ancora da fare tutto il lavoro di rilevamento delle preferenze che probabilmente andrà avanti ancora tutta la notte, ma su questo vi diamo appuntamento domani mattina su tutti i nostri mezzi informativi a cominciare dal nostro sito cr.piemonte.it e la nostra social tv crpiemonte.tv su cui avete seguito questa diretta streaming. Facciamo il punto finale sui risultati delle elezioni regionali 2014. Il vincitore è Sergio Chiamparino, esponente della coalizione di centro-sinistra, che ha circa il 47% dei voti. Al secondo posto, con circa il 22%, si colloca la coalizione di centro-destra, che ha in Forza Italia e in Lega i partiti principali e che aveva in Gilberto Pichetto il candidato presidente, che viene eletto come miglior candidato non vincitore. Al terzo posto, appena ha un'incollatura, l'1% di differenza, qualcosa come 20-25 mila voti, si colloca il Movimento 5 Stelle, capeggiato dal candidato presidente Davide Bono. Davide Bono però entrerà ugualmente in consiglio, non come candidato presidente, ma come consigliere, primo tra le preferenze nella provincia di Torino. Al Movimento 5 Stelle andranno attorno ai 9 consiglieri dei 40 eletti nel proporzionale. Al quarto posto, tra i candidati presidenti, si colloca Fratelli d'Italia. Il candidato presidente era Guido Crosetto, che si colloca attorno al 5% di preferenze come candidato presidente, attorno al 3,5% per la sua lista. Porterà a casa un seggio, non sarà Guido Crosetto perché lui non era candidato su proporzionale, ma sarà un candidato di Torino e la corsa è ancora aperta. Nessun seggio per gli ultimi due candidati presidenti dei sei, e cioè per Filingeri, dell'altro Piemonte a sinistra, e per il candidato Enrico Costa dell'NCD Udc. Con questo chiudiamo la nostra diretta in streaming, ringraziandovi ancora per averci seguito su crpiemonte.tv, sui social con l'hashtag LPE 2014. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.